E siamo giunti a questo tanto atteso clou del pomeriggio, non ancora Zilanda S, aveva il numero 1, ne rimangono in 7. Zoya dei Velti, Zio Sauro, Zarina, Giacomo Joe, Netto Favorito, Zorba in Glory, Zerig e Jet, Zemby l'alternativa almeno al totalizzatore. Parte piano Zorba è imitato da Zio Sauro, va via la macchina in velocità. Giacomo Joe, alla chiusura come una molla, va al comando, all'attacco della piegata, allargo Zerig, Jet e Zemby. Lancio in 12 e 9, tanto per servirvi, si accoda Zerig in terza posizione, Zarina, Daniel, nasino al vento, Zemby. Quarto iniziale, supersonico, 27 e mezzo, e davanti alle tribune ora il Robi può leggermente graduare, poiché Zemby almeno per il momento sembra adeguarsi. 600 in 42 e 7, da 1 a 11 e 2, prende la via del largo Zorba in Gloria, anche Zio Sauro, al comando, già con giù. Si completa il mezzo miglio iniziale in 58 e 3, Zemby sempre all'esterno, ora inizia a intensificare gli attacchi. I due quasi apparigliati, chilometro rovente in 1 a 12 e 6, riprende netto vantaggio già con giù, poiché Zemby ha dato l'affondo di fronte e riprende fiato. 1 a 26 e 6, tre quarti di miglio con già con giù al comando, poi Zemby, retta d'arrivo, allunga e se ne va già con giù, passerella per già con giù e un ottimo Zemby. Poi i fratellini Minopoli si giocano le altre monete, già con giù, signori, un vero show, Elert Roberto Vecchioni, con la proprietà di Esposito Antonio, SRLS, questo Ruti Griff che fa 1,55 spaccato, che dice 1,11 e 9. Cost to cost, rifinito alla grande da questo ritrovato già con giù, che dopo l'ultima che ha fatto veramente un numero, l'ha ripetuto anche oggi. Già con giù, signori, chapeau, anche a Zemby, l'allievo della Cumana che corre alla grande ma ha trovato un vero missile. Già con targato giù, 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 giù. Grazie a tutti.